Che Bari mi aspetto? Non è la questione di aspettarsi una squadra diversa da come si pensa. Sappiamo benissimo che anche il Bari è una squadra di grandissima qualità, una squadra importantissima, però non possiamo ripetere sempre le stesse cose. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di allenarci al mille per mille e poi di andare al campo per cercare di vincere la partita. Detto questo poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso e non sarà facile, però il nostro obiettivo unico deve essere solo ed esclusivamente quello. Guarda, mi dispiace ripetermi, però al di là di guardare la squadra avversaria sotto l'aspetto puramente tattico o tecnico, io in questo momento sinceramente mi preme pensare molto di più alla mia squadra. Quando la mia squadra scende in campo e scenderà determinata e convinta di poter ottenere il risultato, le cose degli avversari chiaramente poi mi interessano fino a un certo punto.